E' attiva da questa mattina la piattaforma telematica per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione contro il covid-19 per il personale scolastico in Abruzzo. In questi primi giorni la prenotazione sarà consentita solo ad utenti residenti in Abruzzo che potranno così accedere utilizzando il proprio codice fiscale e la tessera sanitaria. A breve sarà attivo anche l'accesso via speed. Sarà necessario disporre anche del codice meccanografico dell'istituto in cui si presta servizio. Dalla prossima settimana invece potranno accedere anche insegnanti residenti in altre regioni purché lavorino in un istituto o una università abruzzese. La piattaforma per il personale scolastico resterà in funzione fino al prossimo primo marzo salvo proroghe ed è raggiungibile collegandosi al portale sanità della regione Abruzzo sanita.regione.abruzzo.it. Come per le precedenti fasce di popolazione coinvolte l'adesione è volontaria non convincolante e la priorità nella successiva fase di somministrazione del vaccino non sarà definita dall'ordine cronologico delle manifestazioni di interesse. Nel frattempo prosegue la raccolta delle manifestazioni di interesse per la vaccinazione degli over 80 disabili e soggetti fragili. Ad oggi sono oltre 102.000 le adesioni raccolte già trasferite alle ASL di competenza. Le vaccinazioni hanno già preso il via in alcune aree della ASL di Teramo mentre da lunedì prossimo saranno a regime su tutto il territorio regionale. Si tratta di un'operazione molto complessa dal punto di vista logistico ed organizzativo commenta l'assessore alla sanità Nicoletta Verini ma voglio rassicurare tutti sul fatto che nessuno verrà lasciato indietro soprattutto le categorie fragili per le quali ci siamo fortemente battuti in sede nazionale. Le indicazioni riguardanti una delle tipologie di vaccino disponibili e le note riduzioni nelle forniture degli altri hanno imposto una rivisitazione complessiva in tutta Italia del calendario vaccinale prosegue l'assessore anche alla luce dell'andamento dei contagi che sta colpendo in maniera importante scuole e carceri settori che però non sono numericamente così impattanti sulla campagna di somministrazione che dunque proseguirà coinvolgendo contemporaneamente più categorie.